Il quotidiano Libertà si occupa di giovani. Il nuovo appuntamento in questo viaggio che dedichiamo al mondo dei giovani è la seconda puntata che dedichiamo all'età di mezzo, se così si può dire, da 17 a 24 anni, che è l'età delle scelte in cui si finiscono le scuole superiori e bisogna scegliere se cominciare a cercare con difficoltà un lavoro oppure a iniziare l'università. Anche in questo inserto, che domani è abbinato a Libertà, proponiamo delle storie, delle opinioni, dei numeri, dei dati sulla galassia dei giovani a Piacenza. Ci sono alcune storie interessanti, curiose e opinioni interessanti da leggere. Domani in Indicola con il quotidiano? Sì, domani con il quotidiano Libertà c'è questo inserto, poi ce ne sarà la terza e ultima puntata fra una settimana e il 29.